nuovo capitolo della vicenda del marina yachting la medov la società proprietaria della porto storico una delle concorrenti dalla concessione ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione un sistema di videosorveglianza per combattere la movita violenta e gli atti di vandalismo è quello che l'amministrazione ha intenzione di realizzare sul lungomare prima della prossima estate applauso momenti di commozione per il primo appuntamento del nuovo cartellone del teatro traiano sul palco silvio orlando con la vita davanti a sé di romain garì ultimo saluto stamattina in cattedrale a tarcisio de paulis in tanti in chiesa per ricordare il proprietario dell'appartamento a piazza leandra dove furono scoperti i dipinti raffaelleschi dopo quattro sconfitte di fila arriva il primo successo stagionale per la cestistica al parla di cucci rossoneri si sono imposti a fatica per 71 a 67 sul palestrina decisivo il canestro di bezzi buonasera ecco subito la prima notizia come detto nei titoli bisognerà attendere la prossima primavera se tutto va bene per vedere completato l'itere amministrativo relativo al rilancio delle autorizzazioni per il marina yachting la medov società proprietaria del porto storico una delle concorrenti alla concessione ha infatti presentato opposizione rispetto alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta penale avanzata dalla stessa procura della repubblica il tribunale si pronuncerà il prossimo 24 febbraio e prima di allora difficilmente il comune potrà istituire l'attesa conferenza di servizio vediamo si allungano ulteriormente i tempi per la giudicazione definitiva della concessione relativa al marina yachting la medov la società che le tiene la porto storico una delle aziende che avevano partecipato alla gara indetta dal comune ha infatti presentato opposizione rispetto alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura della repubblica in merito all'inchiesta partita nel novembre 2019 come si ricorderà l'indagine condotta dalla guardia di finanza era partita per una denuncia presentata sempre dalla medov e aveva portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici dell'autorità portuale e dei titolari della rogedil la società azionista della roma marina yachting prescelta al termine dell'istruttoria condotta da palazzo del pincio nel corso dell'indagine le fiamme gialle avevano effettuato numerose perquisizioni sia negli uffici di malovespucci che nelle abitazioni degli indagati e numerose intercettazioni telefoniche ambientali dopo aver vagliato la documentazione prodotta dagli inquirenti il magistrato titolare dell'inchiesta il sostituto procuratore della repubblica alessandro gentile aveva presentato richiesta di archiviazione non avendo riscontrato situazioni di rilevanza penale la medov aveva la possibilità di opporsi all'iniziativa della procura e lo ha fatto la sua opposizione ha probabilmente indotto il comune a sospendere ancora una volta l'iter amministrativo rinviando la convocazione della conferenza dei servizi dalla quale dovrebbe arrivare il definitivo via libera alla concessione bisognerà quindi attendere il 24 febbraio per avere certezze sull'iter di concessione per il marina yachting per quella data infatti è sarà fissata l'udienza nella quale il giudice deciderà se accogliere o meno il ricorso presentato dalla medov in caso di accoglimento arriverebbe un supplemento d'inchiesta in caso contrario si arriverebbe all'archiviazione e al conseguente via libera all'operazione non c'è stata estorsione l'ex sindaco di civita vecchia giovanni moscherini l'ex assessore vincenzo de francesco e l'ex presidente di molo vespucci pasqualino monti sono stati assolti i primi due dal reato di tentata estorsione ed il re terzo dal reato di omessa denuncia dal tribunale di civita vecchia a richiedere l'assoluzione era stato lo stesso pubblico ministero assieme ovviamente ai legali dei tre indagati la vicenda come si ricorderà esplose cinque anni fa quando moscherini e de francesco erano stati arrestati dai carabinieri secondo gli inquirenti i due avevano esercitato pressioni nei confronti di monti affinché usasse materiale proveniente da una cava del viterbese per i lavori di realizzazione della darsena traghetti le presunte pressioni non erano secondo gli inquirenti state denunciate da pasqualino monti il tribunale come detto ha assolto tutti alla luce dell'attuale normativa per i reati contestati qualora fossero stati accertati sarebbe comunque scattata la prescrizione ancora un maxi sequestro in porto da parte dei funzionari dell'agenzia delle dogane e monopoli di civita vecchia nel corso di due distinte operazioni sono infatti state poste sotto sequestro conservativo 32 tonnellate di filati di lino destinati alla fabbricazione di filati ritorti per un valore complessivo di circa 270 mila euro l'abbigliamento prodotto coi filati da una società del vicentino sarebbe stato poi smerciato in europa vediamo 32 tonnellate di filati di lino destinati alla fabbricazione di filati ritorti per un valore complessivo di circa 270 mila euro sono stati posti sotto sequestro amministrativo da parte dei funzionari dell'agenzia delle dogane e monopoli di civita vecchia l'operazione è stata la conseguenza di una specifica attività di controllo volta alla tutela del commercio legale che si è poi svolta nel corso di due distinte operazioni i cartoni contenenti prodotti semilavorati di origine e provenienza tunisina riportavano la denominazione di un marchio commerciale italiano registrato presso l'ufficio italiano brevetti e marchi in assenza di idonee indicazioni la presenza del marchio avrebbe potuto indurre in inganno il consumatore sulla reale origine dei prodotti vista la manifesta irregolarità nella etichettatura del prodotto finito oltretutto destinato al mercato comunitario ed extra comunitario gli articoli si trovavano all'interno di due semi rimorchi sbarcati al porto di civita vecchia da uno dei traghetti che effettuano i collegamenti con alcuni scali marittimi del nord africa ed erano destinati ad una società del settore con sede in provincia di vicenza all'importatore della merce sono state applicate due sanzioni amministrative ciascuna del valore di 20 mila euro la stessa società importatrice dei filati come detto con sede nel veneto ha anche avuto una segnalazione alla camera di commercio per inadempienza rispetto a quanto disposto dalla normativa in materia a tutela del made in italy e veniamo al covid continua a scendere il totale degli attuali contagiati a civita vecchia per il covid 19 nel nuovo report di asle roma 4 regione lazio si legge che nelle ultime 24 ore sono due le persone risultati positive a fronte però di un numero ridotto di tamponi naturalmente essendo stata ieri domenica 5 invece i guariti con civita vecchia che si stabilizza quota 78 attualmente positivi e dopo i tanti episodi di violenza e vandalismo osservati nel corso degli ultimi anni arriva finalmente un rimedio che dovrebbe risultare efficace sia a limitare gli eccessi che a individuare i responsabili è stato infatti avviato l'iter per la realizzazione di un moderno impianto di videosorveglianza che sarà collocato in tutta l'area del lungomare che entrerà direttamente in funzione prima della prossima estate ma per saperne di più vediamo il nostro servizio un grande fratello per vigilare su quanto avviene di non corretto durante la cosiddetta movida per la prossima estate civita vecchia avrà finalmente a disposizione un efficiente impianto di videosorveglianza di ultima generazione che controllerà minuto per minuto cosa accadrà nelle aree e fuori ai locali frequentati dai giovani l'impianto di videosorveglianza sarà installato nella zona del lungomare e nelle strade circostanti le videocamere funzioneranno 24 ore su 24 nell'arco dell'intera settimana e potranno quindi individuare i responsabili di episodi di movida violenta di vandalismo o altre violazioni di legge in una nota diffusa da palazzo del pincio si legge che sono state due le direttrici di finanziamento che hanno reso possibile l'operazione da un lato l'avanzo di bilancio frutto delle sanzioni rorate lo scorso anno con i relativi fondi che sono stati quindi reinvestiti nel comparto della sicurezza dall'altro un cospicuo finanziamento della prefettura reso possibile dalla sinergia instaurata dall'amministrazione comunale e in particolare dalla polizia locale del dirigente berti con le forze dell'ordine in primis il commissariato di viale della vittoria diretto dal dottor paolo guiso è l'effetto prosegue il documento di ramaro dal comune dei dettagli progettuali che hanno portato a compimento una complessa operazione portata avanti in questi mesi dal comandante di polizia locale ivano berti dal consigliere comunale alessandro d'amico delegato alla polizia locale del sindaco ernesto redesco lo stesso d'amico annuncia che i lavori partiranno nei prossimi mesi per fare in modo che prima dell'inizio dell'estate l'impianto di videosorveglianza sia pienamente funzionante per il sindaco tedesco si tratta di un ennesimo premio alla progettualità messa in campo in questi primi due anni con un finanziamento ministeriale che rappresenta il più eloquente suggello alla correttezza e concretezza dell'azione amministrativa il movimento 5 stelle interviene sulla presentazione da parte della giunta del progetto definitivo per il rifarcimento dello stadio fattori parlando di diverse note stonate la prima la più importante affermano i grillini è il cattivo gusto di presentare un progetto della città dentro una sede di un partito la città è di tutti sarebbe stato giusto e sicuramente molto più gradito organizzare questo raro momento di comunicazione istituzionale in comune la seconda spiegano i pentastellati l'irriconoscenza nei confronti della passata amministrazione che aveva ottenuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro già approvato dal ministero dei beni culturali poco prima di lasciare palazzo del pincio la terza concludono dal movimento 5 stelle è la tempistica forza italia festeggia il suo grande risultato di aver presentato il progetto dello stadio con due anni e mezzo di ritardo e la conferenza stampa organizzata da forza italia svolta in un hotel per la presentazione del progetto del nuovo stadio fattori a qualcosa di abberrante e al contempo emblematica alle critiche all'amministrazione si aggiungono anche i consiglieri comunali del partito democratico e quello della lista civica tarantino secondo i quali mai era accaduto che una forza politica parti di una coalizione si proponesse come unica protagonista della realizzazione di un'opera pubblica in malcelato contrasto con gli altri partner di governo e con l'evidente imbarazzo di un sindaco costretto a rincorrere l'iniziativa fuori dalla casa comunale che sul manifesto di presentazione non lo aveva visto nemmeno figurare fra i relatori è però anche emblematico affermano dal partito democratico che forza italia senta la necessità di marcare il territorio in maniera così provocatoria verso questo già litigioso centrodestra che governa la nostra città certamente una conferenza stampa di partito avrebbe senso pur con il disappunto dei potenziali alleati durante il lancio di una campagna elettorale per supportare un nuovo progetto politico tuttavia condotte del genere non hanno ragione di esistere a metà mandato quando si ricerca la compattezza per raggiungere almeno da parte degli obiettivi del programma elettorale la verità è una sola per lavori che dovevano durare quattro mesi siamo fuori casa da circa tre anni e non si sa quanto tempo ci resteremo ancora vivendo in un clima di perenne incertezza e precarietà il comitato inquirini via 16 settembre replica ancora all'ater ed in particolare al presidente Antonio Passerelli secondo l'associazione la pandemia non c'entra nulla con i ritardi visto che l'edilizia è stato uno dei pochi settori non fermato dal covid prendiamo atto che dopo 31 mesi affermano dal comitato anche questa volta la data di inizio lavori annunciata per ottobre non è stata rispettata il palazzo è ed è a rischio crollo dice Passerelli dunque si rischia una strage sotto il palazzo c'è un chiosco bar un distributore di benzina un ristorante un traffico intenso pedoni che passano bambini che vanno a scuola tutte le mattine chiediamo al comune nella persona del sindaco cosa intende fare e se è al corrente che il palazzo è a rischio crollo con grave pericolo per l'incolumità pubblica Ater dice che mancano le autorizzazioni degli enti preposti dica pubblicamente chi sono gli enti preposti gli abitanti dello stabile si appellano nuovamente al governatore Zingaretti all'assessore regionale alla casa Valeriani ai consiglieri regionali Tidei, De Paulis e Porrello affinché prendano provvedimenti Successo e momenti di commozione per lo spettacolo di esordio della stagione teatrale 2021-2022 al Teatro Traiano, la vita del Teatro Traiano, la vita davanti a sé con protagonista uno straordinario Silvio Orlando ha saputo toccare le corde della sensibilità del pubblico che ha assistito al primo spettacolo post pandemia La felicità è nota per la sua scarsità per questo è importante tornare a vedere la vita con gli occhi di un bambino che sa sorprendersi, sperare e vedere del bene anche dove è difficile trovarne Una superba interpretazione quella di Silvio Orlando nei panni di Momo un bambino arabo affidato alle cure di Madame Rosa anziana ex prostituta ebrea che ora sopravvive prendendosi cura dei figli incidenti sul lavoro delle colleghe più giovani Il piccolo protagonista farà conoscere le debolezze e le sofferenze dell'animo umano con gli occhi dell'innocenza Il 13 e 14 novembre la rappresentazione e la vita davanti a sé ha aperto il cartellone del Traiano un debutto stagionale senza il pubblico che un'opera così meriterebbe ma alla presenza di non pochi appassionati che dopo i due anni di pandemia hanno visto riaprire il teatro cittadino Un atto unico che vede sulla scena il solo Orlando con una scenografia essenziale e molto efficace con un misto di tragicità e comicità lo spettacolo di Romain Gheri tratto dall'omonimo romanzo pubblicato nel 1975 presenta un tema che è ancora molto attuale la convivenza tra culture, religioni e stili di vita e l'incontro tra generazioni A fare da sfondo il quartiere parigino di Belleville resto famoso nel decennio successivo a quest'opera dai romanzi di Daniel Pennac con la sua saga della famiglia Malossenne anche questa imperniata sugli stessi temi Qui si incrociano insieme alle culture e le etnie anche storie di povertà, sofferenza ed emarginazione Momo, il cui vero nome è Muhammad si scoprirà che è il figlio di una prostituta uccisa dal suo sfruttatore nonché padre del protagonista rinchiuso in un ospedale psichiatrico La storia di Madame Rosa, anch'essa sfruttata come prostituta è invece legata alla sua origine ebraica e alla deportazione ad opera dei nazisti Il piccolo Momo sognerà sempre di ritrovare sua madre e di sentirsi al sicuro ma le vicende della vita gli faranno capire che i sogni di uno possono essere gli incubi di un altro Così nel desiderare una mamma scopre anche quanto possa essere brutta la realtà che fino ad allora gli era stata nascosta e comprende allora la frase che solleva ripetere Madame Rosa Non c'è bisogno di motivi per aver paura Un epilogo tragico ma che permette a Momo di trovare una famiglia gli farà dire bisogna voler bene Ad accompagnare Orlando in scena è l'ensemble Terra Madre quattro musicisti con disarmonica, claniretto, chitarra e strumenti etnici proponendo musiche magrebine, ebraiche e africane che bene aiutano il pubblico ad immergersi nell'atmosfera del quartiere multietnico Sorpresa finale, dopo i lunghi applausi è stato un breve concerto che ha visto lo stesso Orlando musicista al flauto traverso interpretare la famosa canzone yiddish Gam Gam L'istituzione della biblioteca cittadina forse non rientra fra gli obiettivi del sindaco e dell'amministrazione comunale se lo chiedono Fabrizio Barbaranelli, Enrico Ciancarini e Nicola Porro che spiegano quanto è successo negli ultimi mesi Il 12 aprile, affermano insieme ad altri cittadini abbiamo inviato la proposta di istituire a Civitavecchia la biblioteca cittadina specificando le ragioni dei contenuti ed il 10 giugno abbiamo avuto il sostegno e l'adesione di Tedesco al progetto Barbaranelli, Ciancarini e Porro spiegano che però da quel giorno e nonostante diverse sollecitazioni anche scritte non hanno più ricevuto risposte e hanno quindi deciso un mese fa di inviare un'ulteriore mail al Comune anche in questo caso però caduta nel silenzio Comprendiamo e concludono che gli impegni amministrativi sono numerosi e complessi ma sei mesi per avviare una discussione di merito su un problema che riteniamo non sia marginale per la crescita culturale della città ci sembrano francamente molti e rischiano di rendere poco incredibile l'iniziativa anche agli occhi dei numerosi cittadini che la sostengono L'intitolazione all'Eda Gallinari di una via o una piazza importante della città è la richiesta al sindaco tedesco e alla presidente del Consiglio Comunale Emanuella Mari che arriva dall'Associazione delle Ardite la cui idea è quella di iniziare a sanare una profonda ingiustizia nella toponomastica cittadina che attualmente prevede su 616 trastrade e piazze solo 20 quelle dedicate a donne e fra queste 10 sono sante o religiose Il prossimo 12 dicembre ricorre il decennale della morte di L'Eda Gallinari affermano nata nel 1928 prima donna eletta al Consiglio Comunale e prima assessora L'Eda Gallinari è stata in politica in modo ricco e creativo sostenuta da un'alta consapevolezza del proprio agire da un profondo senso morale del bene pubblico e dalla generosità che la resa per decenni punto di riferimento per le tante persone in difficoltà della nostra città L'Associazione Festeggiamenti Santa Fermina e la PAV le edizioni propongono un concorso gratuito aperto a tutti gli autori dai 14 anni in su che abbiano una storia inedita da raccontare Il concorso diviso nelle sezioni narrativa e pittura ha lo scopo di divulgare storie sia reali che di fantasia legate alla città di Civitavecchia saranno scelti 15 racconti della sezione 1 e 15 dipinti della sezione 2 per creare un'antologia dal titolo Civitavecchia fra pittura e parole Il concorso verrà pubblicizzato sui canali social dalla casa editrice PAV edizioni e dell'Associazione Festeggiamenti Santa Fermina Ultimo saluto della città questa mattina a Tarcisio De Paulis venuto a mancare sabato scorso all'età di 86 anni in tanti hanno partecipato in cattedrale al funerale di uno dei personaggi storici di Civitavecchia Carabinieri in pensione De Paulis era il proprietario dell'appartamento nel palazzo Manzi di Piazza Leandra dove nel 1972 nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione furono scoperti dipinti raffaelleschi che riproducono la stanza di Eliodoro in Vaticano un tesoro inestimabile al centro di alcuni pochi percorsi turistici e visite discolaresche ma che l'uomo avrebbe voluto condividere ancora di più con la città e i suoi abitanti lo sentiamo in questa sua intervista alla nostra redazione in occasione delle elezioni del 2019 De Paulis si appella ai candidati sindaco affinché valorizzino i dipinti e dalle sue parole si evince l'amore che nutre nei confronti della città Ascoltiamolo Ci troviamo nella stanza di Eliodoro la stanza dei dipinti trovati a Civitavecchia La storia sarebbe troppo lunga ma non la voglio raccontare in questo modo vorrei dire che i proprietari sono stati felici di che io li ho aggiornati alla scoperta dei dipinti Comunque per quanto riguarda tutti i nuovi amministratori io li ho chiamati concorrenti uno di questi sei dovrà indossare la fascia del comune e dato che questi dipinti sono stati trovati nel 1972 in 47 anni fa circa i sindaci sono passati ma non si è visto nulla perché questi porterebbero alla città cultura lavoro istruzione e conoscendoci Civitavecchia ormai da millenni oltre i 2000 anni pensate quanto potrebbe essere conosciuta la città Comunque io ai nuovi amministratori ho fatto questo appello ricordatevi che la città non è vostra è nostra è di tutti i figli i nipoti quello che ci hanno dato i nonni passiamole ai nipoti vorrei dire tante cose ma penso che sia questo sufficiente per dire che Civitavecchia è grande tutta la città saluta commossa Tarcisio De Paulis che ci ha lasciato dopo una vita esemplare e per tanti versi avventurosa è il messaggio del sindaco di Civitavecchia che spiega come il suo attaccamento alla città è uno straordinario modello da seguire la sua volontà sull'appartamento che custodisce tesori Raffaelleschi in piazza Leandra afferma il primo cittadino dovrà essere un impegno anche per chi come il comune ha ben pochi strumenti da mettere in campo per valorizzare quel tesoro da me un affettuoso abbraccio alla famiglia e passiamo allo sport iniziamo con la palla a mano il palasport rimane inespugnato la Flaioni batte il Conversano per 29 a 26 al termine di una partita combattutissima ed equilibrata anche se è stata la formazione di coach Patrizio Pacifico ad essere quasi sempre davanti nel punteggio ma Ferretti e compagni non sono mai riusciti a chiudere definitivamente i giochi ed hanno dovuto combattere fino alla sirena finale riuscendo a superare le Pugliesi grazie alla migliore gestione dei momenti culmine nove reti di Ferretti sette di Bartoli e sei per Spizzico ascoltiamo l'intervista Patrizio Pacifico vince ancora in casa la Flaioni che sconfinge il Conversano vittoria che è arrivata meglio nel finale rispetto all'avversario più attenzione più testa che vi ha consentito di vincere sì diciamo così anche se a tre minuti dalla fine col più tre siamo andati a due conclusioni un po' diciamo avventate dove invece dovevamo semplicemente tenere un pochino più di testa come avevamo fatto rispetto alle avversarie che comunque insomma è una squadra che anche ha tenuto sotto scacco il Teramo l'ultima sfida praticamente per tutta la partita tra gli ultimi cinque minuti quindi una squadra buona e sono contento perché lo scorso anno contro la stessa squadra non avevamo ben figurato in campionato e non abbiamo fatto una grandissima partita a Siracusa quindi insomma bene bene perché mi è piaciuta la conduzione della gara nonostante gli ultimi minuti dove siamo stati secondo me un pochino ingenui nel far rientrare il Conversano ma sapevamo che appena sbagliavamo sarebbe stata una reazione è stato sempre in vantaggio praticamente non è mai consentito all'avversario di mettere la testa davanti sì anche se già adesso insomma che hai visto un po' di palla a mano questo è un fattore importante ma non dice quasi niente nel suo sport anche perché il money time quello che noi chiamiamo money time che sono gli ultimi cinque minuti fanno un po' fanno un po' la differenza e veniamo alla palla a volo lo spartito non è stato è stracciato è finita 3 a 0 come nelle previsioni in favore del Castelfranco la sfida di B1 per la Margutta Civitalad solo nel primo set il gruppo di Pietro Grechi è riuscito ad opporsi con resistenza alle Toscane che però hanno preso completamente il dominio successivamente soprattutto nel terzo spicchio di gara sconfitta al tie break per la Comal Civitavecchia Volley nel campionato di C ad Anzio le rossonere hanno ceduto per 3 a 2 all'onda volley sfida molto equilibrata con le squadre che hanno prevalso con massimo 4 punti in ogni set ancora uno stop per 3 a 0 per l'Etruria Volley che a Tuscania cede all'Isola Sagra passiamo al basket primo successo stagionale dopo 4 sconfitte per la Stemar 90 in C Gold al Palaricucci finisce 71 a 67 contro Palestrina dopo una partita equilibratissima e tiratissima che non si vedeva da tantissimo tempo nonostante le ancora presenti sbavature la squadra di Ferdinando De Maria ha sformato una prestazione tutto cuore anche se a larghi tratti durante la partita ad essere in vantaggio sono stati i pre-nestini ma i rossoneri hanno avuto i loro momenti in cui sono stati davanti nel punteggio a dare il contributo decisivo è stato Bezzi con un canestro a 20 secondi dalla fine poi Rischia ha sbagliato il tiro del controsorparso e la Russ ha trovato il rimbarso che ha chiuso i giochi 15 punti per Teisner 13 per Bezzi ed 11 per Preit a fine partita niente interviste perché la cestistica ha imposto il silenzio stampa ai suoi tesserati ebbene questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale ma prima di salutarvi vi ricordo di rimanere collegati con i nostri canali social specialmente su Facebook e Youtube Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it per quanto mi riguarda è tutto vi ringrazio per la gentile attenzione e naturalmente vi do appuntamento alle prossime edizioni buona serata oltre che Grazie a tutti.